Un pomeriggio di lavoro si è perso di sicuro, stop inatteso all'ora di pranzo per le opere di ripristino della condotta a fiume freddo a Calatabbiano. Di mattina gli operai della ditta Benassi avevano avviato il cantiere trasportando in collini tubi per il drenaggio. Poi l'imprevisto intorno alle 13.30 al comune di Calatabbiano non era stato consegnato il piano della sicurezza, in mattinata era stato effettuato pure un sopralluogo dalla forestale. Si parlava inizialmente di un'autorizzazione che doveva essere concessa dalla forestale, e invece era questo piano, il piano della sicurezza, non essere stato presentato dagli uffici della protezione civile che stanno gestendo ogni passaggio burocratico, il progetto è dell'AMAMO. Nel pomeriggio il sindaco di Calatabbiano, Giuseppe Intelisano, dopo essersi sentito con i vertici della protezione civile e con il commissario Foti, dichiarava che lui non aveva bloccato i lavori, che le opere erano riprese regolarmente alle 14.30 e che lui avrebbe potuto fermare con un'ordinanza i lavori e che non l'ha firmata quell'ordinanza, per l'assenza del piano di sicurezza. I tubi elastici giunti dalla Germania sono così rimasti nel piazzale, sono arrivati a Calatabbiano, senza però essere trasferiti in collina. Dagli uffici della protezione civile replicavano che il problema era in via di soluzione, ciò che è certo è che si sta perdendo ancora del tempo, tempo preziosissimo, mentre gran parte di Messina convive ancora con l'emergenza idrica tra rubinetti a secco, file alle autobotti e la disperazione al diciottesimo giorno consecutivo di emergenza e ancora non si può tornare a condurre una vita normale.